Disarticolate due organizzazioni criminali dedite al traffico e dalla detenzione di sostanze stupefacenti, ma anche a distorsione e porto illegale di armi. Maxi, operazione dei carabinieri di Lecce, questa mattina nei confronti di ben 41 persone, di cui 30 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed 11 agli arresti domiciliari nella provincia leccese, ma anche a Brindisi e Bari. Le misure sono state emesse tutte dal GIP di Lecce, la dottoressa Cinzia Vergine, su richiesta della locale procura della Repubblica. ha individuato in pratica un fiorente canale di approvvigionamento di droga, riconducibile ad esponenti di almeno due clan malavitosi locali tra i 41, arrestati anche tra Terlitzesi ed un ruvese, in particolare Michela De Ruvo, classe 88, Gian Battista Desario, classe 75, Roberto Dello Russo, classe 80 e Paolo Ficco, De Ruvo, classe 79. L'indagine, nell'ambito della quale risultano indagati complessivamente 55 individui, è stata condotta dai carabinieri di Specchia con il supporto del nord della compagnia di Tricase, da ottobre 2015 a dicembre 2017, consentendo di documentare le attività delinquenziali di due distinte associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. La prima attiva sul territorio di Tricase e Tigiano, con ramificazioni nel capoluogo Brindisino e nella città di Terlizzi, è dedita soprattutto alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti sulle piazze di spaccio di numerosi comuni della provincia di Lecce. La consorteria criminale si approvvigionava attraverso un fiorente canale riconducibile ad esponenti di un agguerrito clan malavitoso, il Dello Russo Ficco, operante proprio a Terlizzi e di quali a loro volta si rifornivano anche da soggetti di nazionalità albanese. La seconda associazione a delinquere disarticolata era invece operante nei comuni di Taurisano e Corsano, con principale attività il traffico e lo spazio di eroina nei paesi del Basso Salento e gestito da esponenti della criminalità del quartiere 167 della città di Lecce. L'indagine, supportata da attività tecniche ed osservazioni, pedinamenti e controlli, ha permesso nel tempo di effettuare già 13 arresti, di cui diversi in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per soggetti di diverse località nella provincia di Lecce, con il contestuale sequestro di 3,4 kg di droga per un valore commerciale di circa 50.000 euro, ma anche di una somma con tante provento di spaccio pari a oltre 5.000 euro, nonché una pistola con relativo munizionamento.